buongiorno sono le 8 e 15 del mattino siamo in ritardo siamo in ritardo dobbiamo andare subito a montare le pareti forse no non credo che montiamo le pareti perché mancano i miscelatori forse una possiamo montare giusto quindi oggi che facciamo bella domanda non lo so dobbiamo chiedere al capitano al papà di michele che supervisiona tutti i lavori perché credo che forse possiamo montare solo una parete poi non avendo con i miscelatori anzi ho detto a rossela stamattina ne approfittiamo per fermarci un po di più a fare colazione perché dovevo inviare qualche mail qualche fattura in merito a qualche ricevuta in merito alle collaborazioni svolte e ci dedichiamo a fare anche una ricerca del miscelatore magari lo compriamo no perché quello che ha trovato mio padre rossela non piace come lo vuoi amodi è un po meno antico magari non squadrato non troppo da casa perché poi mi sembra di trapiantare il bagno di una casa all'interno di un camper il che ha detto così potrebbe far gola potrebbe sembrare una bella idea però a livello di immagini a livello estetico scusate non funziona tanto cioè deve comunque sembrare il bagno di un camper e quindi come fa a sembrare il bagno di un camper accessori come il miscelatore il doccino e quant'altro non possono essere abnormi come quelli di casa squadrati comunque guarda che quelli da camper solitamente sono proprio brutti e sono di plastica squadrati vabbè ci vuole sì no non lo so ci vuole una via di mezzo magari li vediamo insieme siamo arrivati qui sul camper con il piede un po' incazzato si sta incazzando con il corrugato abbiamo questo è il corrugato che abbiamo acquistato dalle romerlen e adesso abbiamo iniziato la disposizione dell'impianto elettrico iniziato che hai detto ho iniziato e allora adesso parla di criticheranno perché stai usando il corrugato e non le canaline perché mio figlio vuole risparmiare perché hai detto che le canaline sono un casino da mettere qui intanto sono spuntate queste nuove strutture di legno cioè non ricordo che ieri ci fossero c'erano queste c'erano queste le fatture stamattina queste no queste le ha fatte oggi e la casa di sotto sì però queste già stavano da giorni qui praticamente serve per ancorare la pannelli che andranno a creare la doppia parete perché guardate saranno in 10 cm io adesso non trovo il metro in questo di sacco che stavi a dire niente di niente che i sexy sono sexy vestito no nino con i calzi e tu ma sei figa ma tutti ti vederà tu in tutta italia ma è da niente è tutto questo come se sei sexy non io sono sexy ragazzi comunque abbiamo finito un'ora fa di pranzare oggi mia madre ha fatto una frittata guardate come si sta gongolando guardate tutta felice mi è qui che si riposa e rossella rossella è crollata eccola qua rossella da quando siamo arrivati qui a casa mia madre sta sclerando mio padre pure perché è diventato un delirio avete visto tutto il disordine che c'è nella stanzetta i cartoni che abbiamo portato da andrea non so se si sente la sua voce sottofondo meno male che lo dici che non vuole che riprendo il casino comunque adesso andiamo al camper solo io e mio padre andiamo a vedere un po che cosa c'è da fare o meglio sappiamo cosa c'è da fare ma siamo arrivati in quel punto in cui più che altro non sappiamo come muoverci perché ecco per esempio c'è il bagno da montare ma non si può fare fin quando non mettiamo i miscelatori e anche fin quando non facciamo passare da dietro tutti i corrugati con i vari cavi e oggi abbiamo iniziato a farlo come avete visto però poi ci siamo fermati perché noi inizialmente avevamo l'idea cioè fino ad oggi di installare tutto l'impianto elettrico nella parte anteriore della cellula abitativa accanto al frigorifero ma valutando meglio attentamente vedendo tutto il giro che dovrebbero fare i corrugati insomma non ci soddisfa molto quindi ecco adesso stiamo rimettendo in discussione l'unica cosa che fino ad oggi era certo ovvero la posizione dell'impianto elettrico impianto elettrico di cui noi non vi abbiamo ancora parlato speriamo di farlo presto è andato è andato è andato è andato è la coscietta che hai messo dietro prima di fissarlo e ragazzi questa è la parete che ho dipinto a rossella piace a manni però vabbè è carina quindi adesso prima di posizionarla come vedete ho smontato un attimo il tubo del riscaldamento voglio fare un giro di nastro di alluminio intorno al tubo così per scrupolo dato che qui dietro c'è il corrugato ci sono tutti i tubi dell'acqua e non vorrei che possa raggiungere una temperatura talmente elevata e fare qualche danno tanto questo non è proprio isolante però diciamo un minimo di beneficio dovrebbe darlo quindi adesso faccio un giro di questo ragazzi questo è nello chiamiamo seppare questo forse è venuto giusto giusto ragazzi questo è il nostro bagno la doccia la doccia è da 75 e ci entro comodamente dentro c'è tanto spazio posso finalmente lavarmi in modo decente mentre qua e dove verrà lavandino e gabinetto da quanto è questa misura 85 85 togliendo lo spessore della parete 85 quindi potremo fare comodamente la cacca comodamente lavarci i denti e soprattutto la doccia questo prima l'ho chiamato se pare perché come vedete vabbè qui poi verrà chiuso con il pannello che dividerà il bagno dal corridoio quindi io entrerò nel bagno da qui dipende che qua c'è una porta io entro questa mezza parete mi permette di accedere nella nella doccia e poi qua all'interno metteremo una una stecca con una tendina in modo tale che poi da qui possiamo chiudere da qua possiamo chiudere non far andare l'acqua chiaramente per terra quindi ecco perché lo chiamo se pare per questo motivo mostriamo a tutta italia questo bellissimo vestito tigrato che hai messo no ieri non si è uscito nel video quello che ho visto sei super sexy ma che così preparato di buono me dai ma questo video glielo mando dritto e dritta santo a jem ma non ci sono ieri ma mica ti dici che non puoi mangiarla il fatto che devi fare la sana che ne sape dovete sapere che rossella all'ultimo momento ha deciso di sua spontanea volontà di prenotarmi la visita della coloscopia prima della partenza dato che saremo lontani anni michele doveva controllarsi 5 giorni di preparazione lunedì qualcuno che ha disdetto già oggi doveva inizia ma sembra proprio uno spettacolo è buona è buona fa promossa anche oggi questo questa volta mamma non si è ancora abituata però se le persone che cosa stanno dicendo ma che bellissima famiglia stanno tutti commentando grandi 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 che bella famiglia e di si vergogna non vuole più essere ripresa chiudiamo così questo video buonanotte